Siamo con Iuri Cherubini, un entusiasta allenatore del Montemerano, una bella vittoria nel Coppa Cherubini. Come è andata questa partita? Una partita molto difficile, loro sono una bella squadra, si vede anche la classifica che hanno avuto durante il campionato, sono arrivati i secondi da impiazzati e avevamo fatto due partite contro di loro e le abbiamo perse tutte e due. Quindi stasera era molto difficile per noi. Dopo due sconfitte, cosa ha avuto di più in questa finale? Secondo me i ragazzi ci hanno creduto molto di più, erano più carichi. Poi sinceramente sono stati, non gli posso dire niente, hanno sputato sangue in campo, hanno messo tutta la grinta che avevano e gli posso dire solamente bravi. Tra l'altro condizioni meteorologiche molto difficili, insomma serviva grinta e Montemerano ha messo tanta grinta in campo. Sì, fortunatamente sì, contando che quest'anno è stata un'annata molto non piovosa e la prima partita veramente col fango, sinceramente non sapevo nemmeno come schierare ragazzi per sfruttare questa cosa. Fortunatamente è andata bene, ho trovato il bandolo della matassa bene e l'abbiamo sfruttata bene questa cosa.